Dov'è? Qui Ok, guardami un attimo 1, 2, 3 E mentre questo sta succedendo Ok, tu osservi qui E ti rendi conto che puoi guardare davanti Però immaginare qualcosa che sta succedendo Poi chiudi un attimo gli occhi E osservi questo punto qui, il terzo occhio E continui ad osservare il terzo occhio Intanto qui c'è questa palla di luce che si forma dietro a te Questa palla di luce che si sta formando dietro a te Adesso va a visitare i momenti in cui tu hai avuto queste paure Ma tu guardi sempre qui al terzo occhio La palla di luce va a visitare le zone I momenti in cui tu hai avuto queste paure E poi, dopo aver visitato tutti questi Anche i momenti in cui hai avuto molto coraggio In altri momenti della tua vita E poi la palla di luce Ecco, torna di fronte 1, 2, 3 Apri poi gli occhi Se tu adesso pensi all'ascensore Come lo senti? Più semplice Andiamoci E' bellissimo Ma è piccolissimo Mi sorregge l'ascensore Potete entrare quelli che ci stanno Non c'è problema Anche tu se vuoi Anche la bolletta Chiudiamo Si blocca Chiudete, osservami attentamente Dovevo creare il pane Il pane? Silenzio ragazzi Sì Grazie a tutti. 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 Ok. Abbiamo fatto un piano. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. E se si blocca? No. Come ti senti? Un po' confusa. Un po' confusa? Hai paura che si blocca in questo momento? Restiamo qui, vengono i pompieri, non respiri. Non respiro. Un po' confusa. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.